che succede oh no gordo hai distrutta la cuccia beh non ti ci potrei più a cucciare sopra eh agnolino cattivo oh quella è una cuccia per cani adorabile lulu e poi sarebbe il regalo di san valentino perfetto per gordon che ne dice bello sembra che piaccia anche a gordon oh no bambini guardate questa cuccia carissima costa 20 euro oh grazie teo è molto gentile da parte tua condividere aspetta un attimo ci sono e se mettessimo assieme tutti i nostri risparmi magari potremmo permettercela 9 dollari e 13 centesimi beh ci abbiamo provato bambini ma non abbiamo abbastanza oh bambini lo so che è triste ma ci basterà metterlo nella letterina per babbo natale di gordon e magari le amiche stellari sanno come potremmo raccimolare i soldi amiche stellari venite ci serve aiuto ed ecco qua la soluzione a tutti i problemi limoni? scusa mister larskyler ma come ci aiuteranno dei limoni a trovare i soldi per la cuccia nuova? non i limoni prepareremo della limonada ben questo è il momento e questo è il momento della verità! Buona! Ho l'impressione che manchi qualcosa! Ci sono! Aspetta, non a tutti piace la limonata rosa, però è bella! Ah no? Non temere, ho un piano! Adesso che abbiamo il gusto preferito di ognuno, vi andrebbe una piccola gara amichevole! Ottima idea, Stellar Skylar! Vediamo quale gusto vende di più! Squadra limonata al limone o squadra limonata rosa? Diciotto e venticinque, diciotto e cinquanta, diciannove! Eh? Non abbiamo ancora i soldi per la cuccia di Gordon! Ah? C'eravamo vicini! Deve esserci un modo! guardate! Laggiù! È il miracolo del giorno di San Valentino! Finalmente arrivata! Guardate i bambini!